Allora, Nunzia Coppedevi, buonasera, grazie di aver accettato l'invito di pertesto a questa chiacchierata sull'inclusione possibile. Grazie a voi di avermi invitato, buonasera. Nunzia, presentiamola un attimo anche per chi ci guarda. Lei è cofondatrice di un'associazione, giusto? La comunità Progetto Sud, se non vado errato. Sì, sono tra i fondatori della comunità Progetto Sud e della Mezzia Terme. Quello che mi piacerebbe, il punto dal quale mi piacerebbe partire è ovviamente quello della disabilità e quindi cercare di capire come stanno vivendo le persone con disabilità in un momento così drammatico come quello attuale. Certo, si sono venute a creare delle situazioni molto complicate perché all'improvviso hanno chiuso tutti i servizi partendo dalla scuola al lavoro, ai servizi di riabilitazione, ai centri di urni, a tutto quello che non era residenziale. E questo ha creato una situazione anche di pesantezza da parte delle famiglie che comunque si sono ritrovati a carico, situazioni da gestire senza nessun tipo di evasione. Nel senso che dentro casa ci devono fare loro. Sono rosa e fiori, quindi diciamo si è aggravata una situazione già un po' complessa credo. Sì, senz'altro. Tra l'altro io sono in Calabria dove ancora non abbiamo la riforma del welfare per la 238. Adesso l'abbiamo licenziata da pochissimo e già diciamo che comunque è già in crisi perché probabilmente la vogliono rivedere, ma anche giustamente magari ha bisogno di modifiche, però ci manca un... noi non abbiamo un sistema di servizi, un sistema sociale, un sistema sanitario che funziona e dà garanzie. La sanità è commissariata ormai da moltissimi anni e va sempre più verso lo sfacello perché è la vittima di tutti i tagli possibili e immaginabili. Quindi è quello che voglio chiedere. Voi siete una rete anche di associazioni, giusto? Sì, io sono presidente della Fiscia Calabria che è una federazione di associazioni di persone con disabilità. La federazione avrà sicuramente raccolto anche i problemi maggiori di questo periodo, no? Come quelli che possono essere le più grandi difficoltà. Quali sono? Allora, intanto la federazione siccome non gestisce i servizi, ha subito, si è mossa in modo invece per cercare di capire cosa stava succedendo e di fare interventi perché le cose si potessero in qualche modo risolvere o perlomeno alleggerire per molte famiglie. Per cui l'associazione è fatta di associazioni. La federazione è un insieme di associazioni e sono tutte associazioni di persone con disabilità e familiari per cui che dietro comunque hanno nuclei familiari con all'interno una persona con disabilità o lo è direttamente o c'è una famiglia. Per cui abbiamo subito capito le problematiche che venivano fuori e abbiamo cercato di capire cosa si poteva fare nell'immediato perché non si perdesse proprio tutto quello che si era fatto fino ad ora partendo dalla scuola perché ad esempio gli alunni con disabilità hanno trovato più difficoltà degli altri per continuare il loro percorso scolastico visto che non tutti i bambini in base alle disabilità riescono a seguire i programmi a distanza. Noi siamo prossimi a un nuovo DPCM. Cosa auspichereste anche in questo senso per poter migliorare le cose? Qui noi abbiamo fatto tante proposte però tutte molto complicate perché poi per ogni cosa che fai o subentrata al sindacato o subentrata comunque delle difficoltà perché la pandemia di per sé ha creato una situazione di paura per tutti. Per cui abbiamo detto che l'aula è vuota vai nell'aula con il ragazzo di sabbia e fai la lezione tanto siete solo voi ma giustamente ci hanno paura oppure qualcuno dice questo non è il mio ruolo insomma abbiamo combattuto tra i ruoli e tra le paure e tra i diritti ed è stata molto complicata sono molti bambini che non hanno proprio fatto nulla non hanno avuto nessun supporto e questo ci preoccupa moltissimo perché questi bambini che già hanno più difficoltà ci immaginiamo come arriveranno a settembre ma poi è sicuro che a settembre si riesce in qualche modo a risolvere questa cosa perché comunque le prospettive che andiamo avanti per tutti ecco Nunzia all'inizio di questo nostro collegamento lei mi ha accennato che state per partire con un importante progetto di formazione si 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 chiama libertà di partecipare è un progetto che ci è stato finanziato quando noi ancora non sapevamo della pandemia e mi manca farla apposta invece si dice è caduto a pagiolo nel senso che è un progetto al quale noi abbiamo chiesto la possibilità di avere una piattaforma informatica dove poter fare le riunioni associative sia le assemblee che i direttivi tutto perché in Calabria più che da voi muoversi è davvero molto complicato la mobilità è difficoltosissima per tutti non solo per le persone con disabilità le persone con disabilità poi proprio ma anche perché in qualsiasi posto vai non solo per le persone con disabilità ecco e allora noi facciamo molta fatica ad incontrarsi e a fare una vita associativa attiva inoltre abbiamo bisogno sempre di acquisire competenze perché se vogliamo fare infatti abbiamo praticamente abbiamo avuto questa piattaforma abbiamo cominciato a fare le riunioni a distanza ora domani cominciamo un percorso di 12.000 cosa sta per partire adesso adesso sta per partire la formazione domani sera è la prima diciamo il primo incontro formativo la formazione durerà fino a fine aprile del 2021 e si farà ogni mese verrà affrontato un argomento diverso ogni argomento sarà fatto di tre incontri e a distanza sempre di tre ore di formazione e su un argomento ben specifico però non tutte nello stesso giorno giorno una lezione praticamente ogni mese e nei primi quattro cinque giorni si fanno tutte e tre le lezioni poi c'è un iniziativa diciamo un esempio di come si potrebbe procedere di come dovrebbe procedere anche la scuola questo non lo so noi lo stiamo sperimentando però ecco dopo ci sarà un periodo di approfondimento seguito da una tutor e poi alla fine ci sarà praticamente verranno raccolte tutti gli approfondimenti le raccolte e le proposte da da un'altra che cercherà di mettere su un report il report per ogni argomento alla fine faranno in qualche modo un documento che per la fisce sarà il documento politico condiviso da tutti da portare avanti e questo è un esperimento molto interessante anche proprio per poter testare una capacità di procedere con lezioni fatti in maniera smart da casa se infatti visto che noi non sappiamo cosa succederà a settembre penso che possa essere veramente un esempio eventualmente da seguire da replicare è perché no speriamo e lo auguriamo allora nunzia io vorrei entrare un pochettino più nel nella sfera del privato a noi piace come dire raccontare un po la storia dei nostri ospiti io so che possiamo darci del tu mi è involontariamente hai avuto una infanzia non semplice proprio a causa delle della tua disabilità certo e oggi si direbbe sei stata vittima di bullismo in un certo senso giusto no no perché alla scuola è andata benissimo è stata la più bella esperienza della mia vita e sono fatto i primi sei anni i primi cinque anni di elementari in una scuola normale dove allora non era assolutamente così semplice per questa bella esperienza no io avevo letto qualcosa sulla tua storia e ho letto di una prosecuzione diciamo un po complessa sì quella è un istituto perché poi ho fatto 15 anni di istituto a cotolengo di roma sì ed è stata un'esperienza un po difficile da quello che ho letto molto difficile molto 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 nel senso che io sono stata svuotata di tutti i miei diritti proprio di tutto ecco ma rinunzia per quello che è la tua esperienza oggi come come vanno le cose sul territorio nazionale in questo senso siamo ancora a questi livelli ma quello che è successo alle rsa in questo periodo non ti fanno pensare a niente beh certo quello è stato sicuramente un grosso grosso no questo a me ha preoccupato molto questo perché le rsa nascono con l'idea di protezione perché ritengono una persona con disabilità una persona malata per cui pensano che abbia bisogno di cura e di protezione no e però invece e quindi il pregiudizio è ancora molto molto presente è peggio perché neanche quella riescono a garantire per cui non si capisce perché secondo me le rsa sono luoghi di morte civile non si discute senti ma come è andata poi invece la riscoperta del dei tuoi diritti della anche del tuo corpo perché ho letto che addirittura ti nascondevi in un qualche modo eri costretta a nasconderti certo sì 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 e sì perché mi avevano proprio annientato in un certo senso in un certo senso violentata perché io dovevo andare in giro con le gambe con la coperta sulle gambe se non potevo uscire dovevo non farmi vedere certi aspetti ero costretta a fare determinate cose che non volevo fare per cui ero proprio distrutta dentro diciamo che mi hanno tenuta viva quei cinque anni di scuola elementare perché sennò forse non sarei neanche qui a parlarne e comunque quando sono uscita difficili sono si sono poi trasformate invece in una grande positività in una grande capacità di aiutare gli altri certo sì infatti perché io poi quando sono uscita ho dovuto prima lavorare su me stessa perché ero talmente distrutta che in quel modo non potevo aiutare nessuno neanche me stessa ho dovuto lavorare su me stessa e poi però arrivare a un certo punto che era quello di poter aiutare gli altri io credo che questo sia il massimo perché quando si è come consiglio a chi si trova a vivere in un momento di grande difficoltà a causa appunto di una disabilità qual è il consiglio che ti senti di dare il consiglio che mi sento di dargli è quello di non pensare mai che la disabilità debba condizionare tutta la tua vita devi trovare spazi e modi per comunque per vivere la tua vita perché con la disabilità si può convivere e si può anche fare delle scelte di vita interessanti però ci vuole molta 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 determinazione certo è chiaro che bisogna metterci forse anzi sicuramente ancora più determinazione impegno di quanto ce la deve mettere chiunque non abbia invece una disabilità questo è evidente invece quello che ti voglio chiedere invece se tu potessi fare un appello o anche diciamo esprimere una speranza riferendoti a coloro che prendono le decisioni in materia politica quindi cosa bisognerebbe fare su cosa bisognerebbe lavorare ora applicare la convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità che tratta le persone le persone con disabilità come persone con diritti e doveri e che chiede che vengano dati tutti i supporti necessari perché le persone con disabilità possano avere la stessa opportunità di vita come tutti gli altri mi sembra giustissimo non siamo adesso questa emergenza covid che è stata un momento veramente drammatico non solo per l'italia per il mondo intero io dico è stata che può essere preso come un augurio ma ci lascerà qualcosa dal tuo punto di vista qualcosa di positivo un insegnamento non so ci lascerà insegnamenti può lasciare qualcosa di positivo ma può lasciare anche qualcosa di molto negativo la mia paura è quella che col fatto che la pandemia ci costringe a mantenere le distanze a portare avanti determinate regole che non sono così perfettamente d'accordo con quelle regole dell'inclusione sociale per cui rischiamo ancora di più di ritrovarci magari con con problemi ancora più grossi perché anche alcuni percorsi ormai avviati arrivati a buon punto rischiano di essere cancellati bisogna insomma cercare di superare questa fase e vedere come andranno le cose intanto le vostre associazioni la vostra rete di associazioni sta lavorando sul territorio sta lavorando ovviamente in maniera ancora più pressante per poter rispondere in un momento così difficile certo certo per voi la quarantena non è stata diciamo riposo è stata sicuramente invece grande impegno stiamo lavorando più di prima non sia per te è stato un momento di svolta quello nel quale insomma sei riuscita a riappropriarti dei tuoi diritti come abbiamo detto a riprendere un percorso diverso e credo che in questo senso comunità progetto sud sia stata veramente un momento di svolta ci vuoi dire qualcosa in più rispetto a appunto a questo progetto? certo la comunità progetto sud per me è stata una scuola di vita siamo venuti in calabria che io ero uscita dall'istituto solo due anni e mezzo dopo abbiamo fatto un percorso di formazione a capodarco nelle marche perché la comunità progetto sud è un progetto nato lì è un progetto nato lì ma insieme alle persone della calabria infatti in quel periodo ho fatto più viaggi qui in calabria proprio per incontrare le persone disabili della calabria che poi sono venute a capodarco ad imparare a lavorare e siamo partiti con questo progetto è stata un'esperienza importante perché venendo dall'istituto dove tutti pensavano quello che io dovevo essere o fare o dire io non ero più nulla mi sono ritrovata in questa esperienza della comunità dove invece noi come gruppo portavamo avanti l'idea dell'autogestione per cui il lavoro e vivere con i soldi del lavoro fare delle riunioni fiume e poi l'aspetto fondamentale per tutti e ancora più per chi ha una disabilità è certo fare delle riunioni fiume per capire se potevamo comprarci il caffè o tutte cose così a un certo punto siamo cresciuti e abbiamo detto ma ora questo percorso lo possiamo anche spargere ad altri per cui molti di noi sono usciti e hanno creato dei loro progetti di vita alcuni di noi siamo rimasti in comunità ed oggi la comunità non è più solo la comunità disabili io vivo qui ancora nella casa dove è nato tutto che siamo un gruppo di persone con disabilità e no che viviamo insieme però la comunità progetto sud adesso ha molti servizi al centro di riabilitazione alla comunità per tossicodipendenti a a case e famiglie per minori emigrati comunità progetto sud è un modello che andrebbe replicato anche a livello nazionale si è una rete molto vasta di organizzazione e la comunità progetto sud è già una grandissima rete di per sé ed è una rete territoriale regionale nazionale internazionale per cui se vuoi può andare a guardare sul sito della comunità progetto sud comunità progetto sud punto it e c'è proprio un grafico che è un ovolo grandissimo dove c'è tutta la rete di tutte le cose che ha fatto nascere che ha tenuto per sé che ha fatto con gli altri e che ha passato agli altri perché tanti progetti della comunità progetto sud sono nati dalla comunità ma poi sono stati lasciati a chi riusciva a gestirli per cui tranquillamente noi ci siamo fatti anche indietro vedrai che mi ci sta una vasta rosa di organizzazioni che siamo in rete anche la fish calabria è stata in qualche modo proposta dalla dalla comunità progetto sud tanto è vero che anche la sede legale è una è una struttura confiscata la mafia data alla comunità progetto sud tanto è vero che la presidente ancora sono io ecco e che comunque anche fondatrice naturalmente e che comunque ci siamo da sempre l'abbiamo è stata supportata dalla comunità progetto sud adesso è una rete con 35 associazioni ma è la comunità progetto sud e l'ha supportata la voluta dobbiamo scelta abbiamo scelto di una battuta e con un augurio diciamo che la comunità progetto sud potrebbe cambiare il suo nome in comunità progetto italia perché veramente è un progetto che merita il livello nazionale ancora pensato potrebbe essere un'evoluzione per il futuro ma questa è una battuta invece io ti ringrazio per essere stata con noi per aver accettato il nostro invito per aver trasferito tutta la tua grinta la tua voglia di combattere la tua voglia di non arrenderti mai 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 assolutamente non sia grazie mille allora franci noi ci vediamo domani alle quattro e mezza spero di sì spero che questo mi risponda mi raccomando la cyclette e poi ti do l'indirizzo dove la devi far spedire d'accordo con la signorina o senza anche con ti ringrazio domani mattinata ti faccio sapere questo rispondo buonasera fabio grazie di aver accettato il nostro invito a queste conversazioni per un'inclusione possibile l'invito di per testo in questi dialoghi da lockdown che stiamo portando avanti tu dove ti trovi fabio io sono sono rimasto bloccato a centro olimpico a ostia il nostro è il nostro centro dove noi della nazionale di judo lotte carati ci alleniamo in quel periodo presentazioni allora fabio aspetta non ti ho presentato adeguatamente fabio basile oro olimpico giusto di di judo se sei preso una medaglia importante che anche un ritorno al podio olimpico se non sbaglio sì allora mi dicevi sei bloccato lì al centro olimpico chiaramente per la quarantena sì per la quarantena perché nel momento nel giorno in cui hanno dato zona rossa tutta italia ero ero rimasto qua per gli allenamenti e quindi poi alla fine non mi sono più voluto spostare sono rimasto quindi da quante volte li fa io sono qua da esattamente tre mesi caspita un tempo lunghissimo ma guarda è dura per tutti nel senso come dura per me lo è per tutti quanti quindi come la sto vivendo sono rimasto io da solo con l'allenatore giapponese che anche lui ha avuto lo stesso mio problema che non può risalire in giappone e è un altro mio amico ok con cui era rimasto insieme a me che lui di udine e non è facile non è facile per tutti nel senso però bisogna guardare anche lato positivo di queste cose qua ok quindi del positivo c'è nel senso che sicuramente quando tutto tornerà alla normalità penso presto se andiamo avanti così apprezzeremo molto di più quello che quello che prima noi non apprezzavamo nelle semplici cose andare a prendere un caffè andare a comprare il gioco al figlio andare a fare la libertà certo la libertà verno andare al mare certo un abbraccio una uscita con gli amici capito che tante volte prima l'abbiamo sempre preso come una cosa normale ok non apprezzavamo giusto quanti anni hai 25 anni giovanissimo raccontami di questa ultima esperienza olimpica dai raccontami un attimo di questa medaglia beh la medaglia olimpica oramai sono passato quattro anni sono passati è stata sicuramente l'esperienza più bella della mia vita però la mia mentalità dice un'altra cosa nel senso che non ci devi pensare troppo al passato ok perché un giorno tu sei un campione il giorno dopo tu sei uguale a tutti gli altri ok e di metterti in testa nuove mete ok delle nuove delle nuove dei nuovi sogni ok non bisogna mai fermare se tu mi chiedi se tu mi chiedi cosa 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 ti ricordi con olimpiadi ok ma cosa ne pensi cosa ti dico basta è finito quale passato e qual di diventare una leggenda del giudo del giudo mondiale cioè vincere due olimpiadi in due categorie diverse quando sarà possibile affrontare questa sfida fabio beh diciamo che adesso si è fermato il ciclo olimpico avete un'idea è stata slittata l'olimpiade di un anno adesso nel 2021 ci saranno le prossime olimpiadi invece erano erano nel 2020 in teoria però dato questo covi 19 è stata slittata di un anno settima io ho letto un pochino la tua storia mi sono un po documentato allora ho visto che per te il giudo è stato anche un riscatto in qualche modo no assolutamente si è stato un riscatto ed è stato un qualcosa per cui vivere ok mi ha levato da tante brutte amicizie mi ha dato un qualcosa per cui vivere che io sono sempre stato dell'idea che se tu vivi per niente nella tua vita non vivi per un sogno per un obiettivo per una meta se sei nato per niente obiettivamente non è che tu devi sempre avere un obiettivo nella tua vita un obiettivo ma vero che ti piace ok settimana quando tu parlavi di io ho letto un tuo se non sbaglio un articolo nel quale tu dicevi è stato un riscatto il giudo anche rispetto alle tante angherie diciamo così che ho subito nella mia gioventù ecco tu sei stato vittima di bullismo volevo capire meglio un pochino questo aspetto allora vittima di bullismo è troppo ok diciamo che quando ero piccolino io capì che ero dislessico in parte non tantissimo però comunque in parte all'età di 12 anni più o meno ok e comunque la mamma ha purato i fogli a scuola ok le documentazioni lì per lì io non conoscevo cosa fosse veramente dislessia e i bambini altrettanto nel senso quindi mi prendevano in giro spesso no aspettiamo il presupposto che mi sono sempre fatto rispettare fin da quando questo non è sicuro perché è importante anche perché subire il bullismo subire le brutte parole dalle persone cattive dei bambini cattivi è sbagliato tu devi sempre andare avanti anche no nel senso devi mai fatti mettere i piedi in testa da nessuno diciamo mai usando la violenza ma facendosi rispettare questo si passano le parole giuste per farli capire che non si è superiore a loro non è che la violenza è a parte quello è ovvio diamo diamo un messaggio chiaro altrimenti qualcuno ci può fraintendere invece è inutile perché è normale che i bambini quando si è piccoli sanno che tu hai un piccolo problema perché obiettivamente un piccolo problema tendono tendono a prenderti in giro ok c'è tu li devi non ti devi far rispettare nel senso che li devi dimostrare a loro che tu sei non sei come loro tu sei migliore di loro e tu vuoi il tuo impegno sei riuscito questo sia nella costituitico anche scolastico perché comunque io ti volevo chiedere subito una cosa ma i tuoi professori come si sono relazionati con te rispetto a questo problema non tutti benissimo non tutti benissimo perché molti pensavano che fosse una scusa la mia però era all'inizio questa cosa qui non si conosceva ancora bene la dislessia nel ti sto parlando del 2005 2006 purtroppo anche oggi succede però certo non si conosceva bene non si conosceva bene allora comunque sta di fatto che io in terza media o ho detto i professori di basta che non volevo più agevolazioni ho preferito così andare avanti siamo tutti gli altri anche se poi diciamo agevolazioni non sono perché chi usa dei mezzi compensativi si mette diciamo al pari degli altri in un certo modo no certo 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 ho levato il 120 per cento a questo punto beh assoluto anche 130 però sai cos'è che non ne risentivo perché doveva essere un riscatto capito contro contro si si può dire anche contro i ragazzini comunque ti prendevano in giro capisci e quindi sei diplomato come i tuoi compagni giusto assolutamente sì in cosa di ragioneria ok e la scuola per te è stato un momento bello nonostante tutto o la ricordi con amarezza ma ricordo bene purtroppo se devo essere sincero non ho dei bellissimi ricordi perché io non ero fatto per andare a scuola diciamo come era nel senso non mi piaceva io fin da bambino il mio sogno era quello di combattere di vincere olimpiadi non ho avuto nessun altro sogno nella mia vita e non ho avuto neanche altri hobby nella mia vita capisci però comunque però comunque la scuola era importante io lo sapevo che comunque il diploma io dovevo prendere per un fattore mio per una vittoria mia personale capisci è chiaro non tanto per il diploma per una vittoria mia personale alla fine ce l'ho fatto e per me è stato è stato come vincere una medaglia uguale senti fabio ma tu come ti sei avvicinato al judo ma io mi sono avvicinato al judo grazie alle olimpiadi di sidere nel 2000 che avevo appena sei anni vedi un campione vince le olimpiadi nel judo e da quel giorno io ho detto anch'io mamma un giorno saliremo su quattro tamilai vincerò quell'olimpiadi la mia mamma mi diceva fabio dai si se bambino dai vai a giocare con i tuoi amici e io da quel giorno lì mi è rimasto un focus capito c'è un tunnel che io devo arrivare a quell'obiettivo senza nient'altro capito beh serve impegno no serve tanto impegno dedizione pazienza quante ore di allineo e in media 7 8 ore al giorno ma lo sport per te è stato anche un aiuto diciamo rispetto al superare poi questo tuo problema di dislessia ti ha insegnato qualcosa lo sport assolutamente sì assolutamente sì perché perché giusto ci insegna proprio a gestire la paura ad avere coraggio non in violenza non assolutamente in questo parliamone ma il coraggio nell'affrontare un avversario ma sempre con tecniche non di violenza ma con perché se tu sei se tu conosci come un po il judo il judo è non è violenza ma è battere l'avversario utilizzando la sua forza ok c'è è un meccanismo molto complicato da spiegare non è facile però comunque giuda assolutamente sì ma aiutate come certo no è una questione di utilizzare la forza molto duro però è uno sport molto duro bisogna fare sacrifici comunque non avanti col tempo ti fai male ti rompi operazioni cose né non è un gioco certo assolutamente sì ma diciamo rispetto adesso a questa situazione che stai vivendo invece sei in contatto con amici riesci a sono chiuso qua da tre mesi e non ho neanche voglia tanto di uscire perché mezzi multimediali quindi cellulari o computer in che senso se riesce a entrare in chat con amici a perlomeno ad avere qualche scambio in chat sì qualche volta ma mi sono molto un solitario che mi piace molto stare vivo la mia vista è assolutamente sì non ho mai smesso di allenarmi con quel poco di spazio che ho io non ho mai mai perso un giorno di questa quarantena di allenamento e bisogna prendere anche le cose le cose positive da questa quarantena qua c'è questa quarantena qua io ho pensato che dovevo allenarmi su alti fronti ok e ho allenato anche parti del mio corpo e parti mie mentali che non avevo mai allenato senti fabio tu che sei un campione olimpico che consiglio ti sentiresti di dare ai tanti tantissimi ragazzi che si sentono buttare giù da questi problemi come la dislessia come la discalculia insomma dai dsa in generale che non c'è non c'è motivo per buttarsi giù non c'è assolutamente un motivo per buttarsi giù se si buttano giù perché lo vogliono loro loro non si devono buttare giù non devono essere più forti di tutti quanti finito non esiste né far la vittima né avere pena perché se ce l'ho fatta io ce la potevano fare tutti quanti tu sei un esempio per tutti tu sei un esempio per tutti perché sei l'esempio di chi con un dsa può arrivare ad essere orgoglio di una nazione come tu ma ma io io vidi quando andai dalla logopedista quando ero piccolino mi fece vedere tutti i dislessici anche di una volta le grandi divinità diciamo no e stein da vinci michael jordan sapevi queste cose qua assolutamente sì c'è quindi quelli quello ti fa spiegare che chi pensa di avere un difetto ha un qualcosa in più un dono che ne sai anche perché non si può neanche parlare di difetto poi in fin dei conti è semplicemente quello infatti ho detto quello che pensano loro ma è sbagliato perché tante volte la nostra testa ci fotte scusa il termine ma è così o sbaglio è così perché parte tutto da qua parte tutto da qua perché se tu quasi forte sei forte lo sarei per sempre capisci fabio quindi tu adesso insomma tra poco forse riuscirai a rientrare a casa immagino e poi di lì assolutamente sì anche perché mi manca anche la mia famiglia obiettivamente sono tre mesi vivo da solo da quando c'ho 16 anni ok sempre stato uno zingaro tra virgolette perché perché giro sempre il mondo prendermi allenare con un giappone un po in corea un po in russia non faccio una vita normale di un mio coetano che faccio una vita che lo io però fin da piccolino ok le olimpiadi purtroppo come dicevamo prima sono state ovviamente rimandate e questo quanto incide sulla mente di un atleta diciamo lavorare per un obiettivo che poi all'improvviso viene spostato io penso sempre che la tua testa decidere come prenderla la cosa è ovvio io ero in un momento di forma adesso a gennaio ho vinto un torneo grand prix in israel a tel aviv vinto la medaglia d'oro ed ero in un momento top ero in un grande movimento forma però bisogna guardare le cose positive della cosa ok hai un anno in più di preparazione puoi diventare ancora più forte ok puoi diventare ancora più forte se uno è il numero uno al mondo l'è oggi lo è il 21 luglio 2020 e lo è anche nel 2021 poche parole ma fatti quindi hashtag niente scuse zero ma zero scuse assolutamente no e zero vittimismo fabbio io ti ringrazio di averci dedicato parte del tuo tempo grazie mille ciao caro buon lavoro buona giornata ciao buon lavoro buon allenamento grazie si adesso inizio tra un'ora ciao fabbio grazie ciao 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 un uomo cieco aggrappato al suo bastone si fa strada tra gli occhi dei vedenti un uomo sordo aguzza la vista per capire frammenti di dialogo dall'abbiale degli udenti un uomo seduto ma con animo in volo guarda immobile le gambe dei passanti un uomo autistico solo in un angolo desidera baci e abbracci mentre sgranocchia il suo tarallo rustico un uomo down ride fragorosamente col suo amico che per distrarlo fa un po il clown li osservo sento battere il loro cuore e mi chiedo se qualcuno potesse guardare dietro il loro petto cosa scorgerebbe meraviglie un coraggio non ordinario di chi supera un limite con dignità una fantasia e una sensibilità superiore nell'affrontare le difficoltà della vita e inventarne una da vivere piccole e grandi paure di non essere abbastanza forti sentirsi a volte in mezzo a tante persone che li amano a volte soli tra la gente una sottile profonda malinconia un'incredibile vitalità la gioia e l'allegria la sensazione di essere dentro il mondo e anche fuori e anche oltre grazie a tutti Grazie a tutti.